Ciao da Valentina, la prof di LinkedIn, cosa sono gli hashtag? Sono quelle parole con il cancelletto davanti, lo dico perché molti non lo sanno ma soprattutto non sanno cosa significa una parola, indicizzazione, l'hashtag indicizza quel contenuto, se faccio un hashtag con una parola attaccata a casa mi usciranno fuori tutti quei contenuti che parlano di casa, sempre se le persone hanno messo l'hashtag giusto all'interno del post, infatti se vedi un post con scritto, ciao hashtag dove, hashtag sei, hashtag andato a casa primo è illogico, secondo non sei capace di utilizzare LinkedIn, non sei capace di utilizzare i social perché lo vedo pure su Facebook, che non servono a niente gli hashtag e soprattutto non si capisce che hai scritto e non indicizzi nulla, anzi incasini il database di LinkedIn quindi non lo fare e evita le persone che lo fanno o comunque diglielo che non funziona così e che funziona in un'altra maniera bene questo è tutto e mi raccomando esagera sempre